L'Altra Voce Notizie Informazioni Dibattiti Parole ed opinioni Tante voci dalla TV L'Altra Voce, una voce diversa L'Altra Voce È un programma di Remo Cristallo con la partecipazione in studio di altri pastori evangelici della Campania Cari amici, cari telespettatori Rieccoci al nostro appuntamento con l'Altra Voce Con questa trasmissione inauguriamo una serie dedicata al sesso femminile di fatti tratteremo le donne nella Bibbia Naturalmente il nostro scopo è quello di aprire delle riflessioni alla luce della scrittura e anche dell'esperienza pastorale dei ministri e pastori che sono qui in studio Per l'occasione desiderei quindi presentarvi il pastore Michele Romeo il pastore Antonio Romeo il pastore Daniele Bachman e il pastore Bruno Circarelli che ben conoscete perché sono abituali partecipanti di questo nostro salottino in studio Abbiamo per l'occasione invitato la dottoressa Rosa della Versano che già abbiamo avuto modo di conoscere in qualche altra nostra trasmissione diamo il benvenuto e ci fa piacere che possa portare il contributo femminile a questo nostro appuntamento Vogliamo far partire un contributo che ci introdurrà appunto nella prima trasmissione che è proprio intitolata La Donna Nel libro del Genesi è scritto che Dio pose accanto all'uomo la donna perché non era buono che egli fosse solo Genesi 2,18 Le parole letterali che il creatore pronunciò furono un aiuto corrispondente a lui La donna quindi è un completamento fisico, intellettuale e spirituale dell'uomo un aiuto uguale a lui Insieme formano l'uomo Genesi 5,2 Fatto a immagine e somiglianza di Dio Bene, apprezziamo questo contributo che ci introduce nelle nostre riflessioni e vorrei chiedere al pastore Michele Romeo Seguendo appunto queste indicazioni sullo scopo della creazione dell'uomo ma naturalmente in questo caso stiamo parlando della donna come in alcuni casi è visto quasi un elemento incidentale sulla creazione mentre invece poi abbiamo avuto modo anche dal contributo di valorizzare ha un preciso scopo Ora, perché Dio creò la donna? Sempre guardando Genesi noi vediamo che nel primo capitolo Dio già ci appare un Dio plurale cioè Dio disse sia la luce, la luce fu e poi il Vangelo Giovanni dice che la parola era presso Dio, la parola era Dio poi quando arriviamo alla creazione dell'uomo sempre del Genesi ci presenta ancora una volta un Dio plurale facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza questo per dirci che Dio è un Dio di relazione non è un Dio di soli e praticamente anche Adamo non poteva rimanere un essere solo seppur in un bel giardino, seppur in buona compagnia ma come la scrittura stessa ci dice Dio gli fece un aiuto che gli fosse convenevole per cui al di là di quello che abbiamo ascoltato nell'introduzione e visto quello che è stato un po' questo lungo periodo arcaico in cui le donne insomma effettivamente se la sono passata male e continuano in altri contesti sociali se pensiamo al Terzo Monte al mondo orientale dove ancora oggi le donne insomma non è che abbiano grandi valori cioè grande visibilità se pensiamo che in alcuni paesi non possono nemmeno guidare l'auto non gli è permesso di prendere la patente anche se ci sono alcuni sprazzi diciamo di migliorie di miglioramenti però per quanto riguarda il nostro contesto sociale dobbiamo dire che dagli anni 60 ad oggi insomma il progresso femminile indubbiamente ha avuto un'accelerazione al punto che oggi insomma è lontano questa idea di una donna che praticamente non vale niente che deve essere soltanto la madre dei figli dedica al lavoro casalingo insomma c'è stato questo sviluppo e di cui credo che noi come credenti ne siamo sicuramente soddisfatti anche dobbiamo per dirla tutto dobbiamo anche verificare lo verifico anche io come pastore penso che anche voi che oggi se una donna decide qualsiasi cosa anche nell'ambito della famiglia persino l'atto estremo di volersi separare dal marito per situazione un uomo è più disponibile a una rappacificazione invece quando le donne hanno preso la decisione sono più dure degli uomini ma questo non per mortificarle non per dire per parlare anche di quello che è la differenziazione che c'è tra il carattere dell'uomo e il carattere della donna ma indubbiamente Dio non solo voleva dare una compagna ad Adamo ma nel progetto di Dio c'era il progetto di famiglia la moltiplicazione con la sua benedizione la relazione che insieme potessero avere con Dio e anche indubbiamente la strutturazione dei ruoli Dio creò l'uomo poi dall'uomo creò la donna e diede indubbiamente delle indicazioni fin dal principio di quali fossero i ruoli all'interno della famiglia ma al di là di questo sia l'uomo che la donna avevano relazione con il Signore Dio non si incontrava soltanto con Adamo ma si incontrava anche con Eva e poi diciamo nel Nuovo Testamento vediamo che l'Apostolo San Paolo poi raffigura l'unione con uguale all'unione di Cristo e della Chiesa dunque pur restando i ruoli diversi ma davanti a Dio poi nel Nuovo Testamento dirà sempre questo non c'è uomo non c'è donna abbiamo tutto una relazione e dobbiamo averla con il Signore questo ci benedice pur ripeto rimanendo in quelli che sono i ruoli distinti da quello che è il ruolo del marito e da quello che è il ruolo della donna dunque come è stato detto Dio non volle creare uno scompenso Dio vuole creare un'armonia un progetto che ancora oggi vale di cui noi ci crediamo molto e fortemente perché senza la donna non potrebbe esserci il concetto di famiglia e non potrebbe esistere la società sì anche questi elementi di esperienze pastorali sono interessanti sono significative e vogliamo rivolgere una domanda appunto alla nostra dottoressa che non è stata invitata questa volta per gli aspetti legati alla sua professione di medico ma da credente io vorrei fare una riflessione che parte appunto da un testo della scrittura della Genesi Dio disse non è bene che l'uomo sia solo io gli farò un aiuto un aiuto che sia adatto a lui quindi il termine ebraico aiuto è eser che vuole significare sostegno soccorso la Bibbia dice che sostanzialmente la donna è un aiuto convenevole in che senso se mi permetti Michele prima di dare la risposta alla domanda vorrei precisare una cosa per gli ascoltatori riguardo alla creazione molte persone pensano che sia un mito e quando pensano a un mito pensano a qualcosa di falso in realtà la parola mito significa semplicemente racconto un racconto per rappresentare una verità quindi il racconto biblico della creazione ci rappresenta una verità non è un fatto storico perché non lo possiamo collocare nel tempo e nello spazio ma è un racconto che ci aiuta a comprendere una verità e la verità biblica a cui noi crediamo è proprio questo che Dio ha creato la donna per essere un aiuto convenevole per l'uomo e non come essere inferiore perché la donna non è un essere inferiore è sufficiente osservare la creazione man mano che Dio creava si passa da forme di vita inferiori a forme di vita superiori si passa dalla vita più semplice alla vita più complessa dai vegetali agli animali dagli animali all'uomo e poi dall'uomo da Adamo è stata tratta Eva quindi se nella creazione c'è questa progressione c'è tra virgolette questo perfezionamento allora l'ultimo lavoro di Dio è il suo capolavoro e quindi Dio ha creato la donna e ha creato la donna non traendola dalla polvere della terra come aveva fatto con Adamo ma l'ha creata traendola da una sua costola cioè dal suo cuore dalla sua essenza per indicare che uomo e donna condividono la stessa natura condividono la stessa essenza quindi hanno pari dignità e pari onore volendo usare una metafora per rappresentare tutto questo se l'uomo è stato creato per essere il capo la donna è stata creata per essere una corona sul capo dell'uomo che nei progetti iniziali di Dio uomo e donna dovessero avere pari dignità e pari onore c'è anche indicato dai termini ebraici che vengono utilizzati la parola Adamo deriva dall'ebraico Adamo e significa tratto dalla terra quindi terroso ma quando poi viene creato l'uomo e la donna si usa il termine ish per l'uomo e il termine isha per donna che tradotto letteralmente significa uoma cioè uomo al femminile quando Adamo vide Eva che era stata creata non le diede subito un nome ma la chiamò isha riconoscendo che condivideva con Eva la stessa natura la stessa sostanza quindi il progetto originario uomo e donna pari dignità e pari onore stessa sostanza stessa essenza ma genere diverso perché genere diverso perché uomo e donna come diceva il pastore Michele dovevano svolgere funzioni diverse e la funzione che era stata stabilita per la donna è espressa dal termine ebraico eser kenegdo eser significa aiuto significa soccorso significa sostegno che cos'è un aiuto è un'opera che viene prestata a favore di qualcuno che è in difficoltà che cos'è un soccorso è un aiuto che viene dato a una persona che sta in pericolo e che cos'è il sostegno sostenere una persona e questo lo vorrei puntualizzare significa mantenere aiutare quella persona a mantenere la sua posizione facendosi carico del suo peso praticamente il compito della donna quale doveva essere aiutare l'uomo a mantenere la posizione di autorità delegata che Dio gli aveva dato sul creato facendosi lei carico di alcuni dei pesi dell'uomo quindi la donna è stata creata per essere un aiuto convenevole qualcuno ha detto un aiuto che lo completa un aiuto adatto a lui un aiuto degno di lui la parola kenegdo che significa ci sono diversi significati il significato più diffuso quello più accettato qual è come colui che ti sta di fronte quindi la metà che ti completa questo che significa l'uomo era stato creato aveva dato un nome agli animali poteva trarre benefici dai vegetali dagli animali dai vegetali si poteva nutrire dagli animali poteva riceverne un servizio però gli mancava qualcosa gli mancava un essere razionale con cui potersi confrontare e con cui potersi completare da che punto di vista dal punto di vista mentale dal punto di vista emotivo dal punto di vista dei sentimenti e anche dal punto di vista fisico e per questo motivo fu creata la donna perché dal punto di vista mentale una donna è più decisa è più determinata una donna quando prende una decisione la prende con il cuore l'uomo è più razionale la donna invece è più sentimentale ancora dal punto di vista delle emozioni perché perché le donne per natura sono più aperte a ricevere le emozioni e Dio ha creato le emozioni per rendere la vita più colorata per rendere la vita più bella le donne hanno una capacità di persuasione le donne quando prendono una decisione sono più adatte dell'uomo a portarle a completamento ne è un esempio il fatto che Eva sedusse Adamo Eva convinse Adamo a consumare del frutto dell'albero proibito e infine serviva per un completamento fisico Adamo aveva un corpo e aveva uno spirito ora il suo spirito trovava soddisfazione nella comunione in Dio ma Adamo aveva anche un corpo un corpo che Dio aveva dotato di organi di senso per fare che cosa? per conoscere il mondo ma anche per provare piacere infatti non è un caso che Dio dopo aver creato Adamo lo mette in un giardino chiamato Eden che significa appunto delizia piacere e l'uomo trova piacere il suo fisico trova piacere quando riceve delle carezze da una donna quando riceve delle attenzioni dalla sua metà ora questa pari dignità questo pari onore con queste differente funzioni sono decadute a causa del peccato e per concludere vorrei dire che la cosa più triste qual è? la cosa più triste è che la misoginia cioè questa avversione verso le donne è presente non solo negli uomini ma anche nelle donne infatti è difficile molto difficile trovare una donna che possa stimare veramente un'altra donna e che belle considerazioni che aprono sicuramente degli spazi di ulteriori approfondimenti di ulteriori riflessioni ecco spiegato il mondo complesso l'universo femminile che così come Rosa ce l'ha in qualche maniera descritto vorrei chiedere invece al pastore Antonio Romeo ora abbiamo visto questa funzione complementare della donna ma naturalmente non semplicemente un complemento insomma una stampella sulla quale appoggiarsi ecco questo volevo chiedere la donna deve essere vista semplicemente come un aiuto o attraverso attraverso il suo ruolo la complessità della sua diversità può essere invece qualcosa di più di un semplice sostegno dopo l'esposizione della dottoressa penso che possiamo replicare le sue parole e rispondere a questo detto questo faccio un'altra premessa credo che ogni uomo sulla terra dovrebbe ringraziare Dio per aver avuto questa idea meravigliosa di creare la donna la vediamo lo conferma lo stesso Adamo che quando si trova la donna davanti esprime oh finalmente finalmente ossa delle mie ossa carne della mia carne questa espressione ci fa comprendere veramente la gioia una volta quando esprimo questo concetto in un matrimonio faccio questa forzatura dico la gioia di Adamo è quando il Napoli segna un gol e uno è il tifoso del Napoli e dice gol ecco quando Adamo ha visto la donna ha detto gol per lui è stato proprio un momento meraviglioso di gioia per quanto riguarda la domanda che dice semplice aiuto credo che sia un po' riduttivo ecco dire se è stato creato come un semplice aiuto infatti come ha detto la dottoressa non è stato solo un aiuto nell'azione ma è un aiuto nell'essere stessa donna che completa l'uomo nella dualità questo rapporto che si crea tra uomo e dottore viene completato nella sfera della personalità umana solo nella sfera sessuale come è stato detto ma anche nella psiche dell'uomo nella parte spirituale l'uomo si completa totalmente con la relazione con la donna ossa delle sue osse carne delle sue carne credo che sia stato questo nel pensiero di Dio quando ha creato la donna non solo una stampella ma proprio quella di dare un premio ad Adamo visto lo solo noi immaginiamo Dio che guarda Adamo che ha relazione con tutto il creato con gli animali con la creazione della natura però lo vede non realizzato non infelice perché non era infelice Adamo ma gli mancava qualcosa e questo qualcosa Dio glielo completo con questa idea meravigliosa della donna e l'uomo trova piena realizzazione sia nella sfera sessuale ma anche nell'essere nell'altra parte dell'essere donna in se stesso e gloria a Dio per questo noi a volte si dicono tanti miti sulle donne ma le donne hanno un valore importante nella nostra vita personale noi siamo sposati tutti ma anche nella vita di chiesa sappiamo che le donne hanno un valore importante e le dobbiamo valutare per quello che Dio ha stabilito per loro a fianco all'uomo e nella comunità come donne di Dio non sempre questa relazione questa unione è così idilliaca come in qualche maniera questa prima parte della nostra trasmissione la presenta però noi stiamo parlando del progetto di Dio il progetto di Dio è la creazione di una di una relazione che può rendere l'uomo felice e il pastore Antonio ci descriveva anche questo momento di esaltazione di Adamo nel momento che Dio lo aiuta a liberarsi da quella solitudine attraverso la creazione della donna al pastore Daniele Bachman vorrei invece chiedergli va bene questa prima fase è stata stupenda poi sopravviene la caduta quindi il peccato che va a scombinare l'armonia e la stabilità che c'era lì in questo giardino dell'Eden e naturalmente in conseguenza del peccato ci furono delle conseguenze diciamo negative sia per l'uomo che per la donna ora Dio dice alla donna che i suoi desideri si sarebbero rivolti verso l'uomo ecco in che senso questo pastore Daniele prima di tutto dobbiamo capire che questa caduta veramente ha colpito l'uomo con praticamente veniva messo fuori del ciardino fuori dalla presenza di Dio e così anche la donna praticamente questo peccato questa conseguenza possiamo dire questo verdetto duro da parte di Dio che dovranno soffrire dovranno subire delle conseguenze di questa caduta di questa disubbedienza della donna e anche dell'uomo hanno delle diciamo delle conseguenze negative allora noi vediamo che la donna dovrà soffrire per il parto dovrà soffrire tante cose ma sicuramente una delle sofferenze primarie era proprio la mancanza di comunione con Dio la mancanza di Dio come guida come dipendenza come protezione come aiuto e gli veniva a mancare questo aiuto all'improvviso e noi anche nell'evangelizzazione spesso diciamo che l'uomo e anche la donna gli manca Dio qualche volta si dice che c'è un vuoto dentro le persone confermano che non sono soddisfatti e noi comprendiamo che devono accettare Dio nella loro vita devono accettare Cristo come loro salvatore allora la vita cambia ma questo vuoto è veramente evidentemente era difficile per questa donna e Dio dice che ci sarà una conseguenza che il suo cuore sarà rivolto verso l'uomo sembra una affermazione piuttosto positiva a prima vista ma poi ci rendiamo conto che non era l'uomo che la poteva soddisfare in pieno certamente se la donna si rivolge all'uomo forse anche una mamma che ha dei figli e si rivolge verso l'uomo forse chiede anche proprio una protezione chiede un aiuto all'uomo per sostenerla per aiutarla e ovviamente in quel tempo particolarmente era conosciuto che l'uomo doveva uscire a caccia doveva entrare nell'agricoltura a lavorare e quindi lui provvedeva per la famiglia e la donna guidava la casa e levava dei figli che in quel tempo spesso non erano pochi e allora c'era questo compito di portare avanti la famiglia però c'era anche la paura c'era anche appunto questa mancanza di autonomia che poi purtroppo nella storia spesse volte sentiamo che è stato diciamo oppresso è stato approfittato dell'uomo di opprimere la donna e non darle più questa libertà noi possiamo pensare che nel giardino la donna aveva la piena libertà che poteva muoversi poteva fare tutto nella tranquillità nella soddisfazione ma dopo è iniziato una vita di sofferenze di tanti problemi che purtroppo fino ad oggi abbiamo sempre i problemi nella vita perché senza Dio la vita è veramente anche vuoto ma anche un significato della vita e perciò questo desiderio della donna si rivolge all'uomo che però alla fine poi non la può soddisfare questa riflessione che portava il pastore Daniele credo che sia abbastanza interessante l'idea che nel progetto iniziale di Dio la donna potesse avere una sorta di autonomia maggiore nel rapporto nei confronti del marito questa forma di interdipendenza che viene dalla caduta ha poi provocato questo atteggiamento di dominio da parte dell'uomo sulla donna fino alle distorsioni che abbiamo viste nella scheda iniziale attraverso i richiami storici sia a quella che poi è attualmente anche nella società oggi nostra dove effettivamente certe forme di dominio da parte dell'uomo sulla donna che poi talvolta sfociano anche in violenze io vorrei chiedere al pastore Bruno Ciccarelli che cosa la scrittura vuole intendere quando dice che l'uomo avrebbe dominato su di lei ma concordo con quello che diceva sorella rossa in effetti all'inizio non era così ma ci era stata una ridefinizione proprio perché il peccato è inficiato e ha in un certo senso distorto il progetto primario di Dio e come Dio dicesse alla donna adesso tutti quelli che sono i tuoi desideri devono essere approvati dall'uomo ciò che era accaduto era stato qualcosa di abbastanza importante e serio che poi ha pregiudicato il corso dei secoli la vita dell'uomo e della donna stessa in alcune parti della scrittura in particolare del nuovo testamento è scritto in Efesini e in Tito che le donne o le mogli devono essere soggette o sottomesse ai mariti un'amplificazione di questa posizione che purtroppo nelle nostre chiese alcuni hanno anche un poco distorto principalmente i nuovi credenti che leggendo che la donna deve essere sottomessa al marito gli impongono quasi con una autorità autoritarismo che devono fare quello che dice il marito questa è una distorsione perché noi dobbiamo concordare che nella società laica forse le donne hanno un ruolo preeminente e l'acquisizione dei diritti legittimi e sacri non significa una legittima soddisfazione perché quello che stiamo cercando di proporre attraverso questa soddisfazione sono i principi della parola di Dio che non sono i principi di una società che purtroppo si sta sempre di più allontanando da Dio perché la donna cristiana non ha difficoltà a entrare in quest'ordine di ricevere questa parola e l'uomo dominerà sulla donna perché la donna cristiana e quando parlo di donna cristiana parla di una donna rigenerata dalla potenza di Dio che ha conosciuto la grazia di Dio da un solo desiderio quello di sottomettersi ai dettami di Dio certamente si sottomette all'uomo in questo caso può essere il marito se i desideri del marito sono legittimi e rientrano nei canoni della parola di Dio l'umanesimo che oggi cerca di penetrare nella chiesa cerca di sorvertire il ruolo della donna questo non significa che la chiesa stessa la riporta ai principi veterotestamentari o nel medioevo ma è importante che il marito agisca con diligenza ed eserciti un'autorità e un non-autoritarismo e lo faccia con amore diligenza e aggiungere anche prudenza perché dall'ubbidienza della parola di Dio noi possiamo comunicare e dirvi credeteci ci sarà la vera soddisfazione sì i diritti ma l'ubbidienza alla parola di Dio è quello che ci assicura una vita prospera e dignitosa sì continueremo naturalmente ad approfondire nella prossima trasmissione dove cercheremo di affrontare il tema del ruolo della donna nella società ma anche nella chiesa con questo invito al prossimo appuntamento noi vogliamo salutarvi ringraziarvi per la vostra attenzione in studio Bruno Ciccarelli Daniele Bachman Antonio Romeo Michele Romeo e Rosa della Versana con me vogliamo salutarvi e darvi appuntamento alla prossima trasmissione dell'altra voce Dio vi bene